Io adesso prendo la guitar acustica e vengo in mezzo a voi. Io se vengo lì, visto che non ho di fare le lettere e che non ho una band, voglio da voi una partecipazione di un certo tipo. Iniziamo senza pulsio e poi vediamo che cosa succede. Visto che è una cosa speciale, facciamo questo speciale silenzio. Ci troviamo? Dai, e vediamo di fare pulsionare le cose anche se la tecnologia, facciamolo come lo facevano nell'Ottocento, anche prima, con un strumento acustico e una voce. Ok? Allora, Darkwood. They say there is a stream where crystal water is low. Well, that is the stream, is the dark wood. Poi io non ci penso, no? Quando sono nei concerti elettrici, questo tappo mi salva da certe frequenze e non mi va in risonanza la chitarra. Ma in questo caso, in questo caso, il tappo nell'Ottocento non si arriva, che lo baghiamo. Ok? Non puoi niente tappo e si sentirà almeno in tributo con la chitarra. Shhh, ricordiamo da prima, dai. Shhh, they say there is a place where the light from the start is softer than sensitive. That is grace, Darkwood. 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 That people fall away, inside my mind. Keep on struggling, searching day and night. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti